3 marzo 2023 e in questo video andremo a fare la pista numero 11 tre signori nera riprese con gopro hero 11 in 4k 60 fps hyperview ai 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 neve ha cominciato a sciogliersi vista perfetta andiamo ad assaggiare la neve della tre signori grazie a tutti 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 questo video è finito metti mi piace iscriviti al canale in modo da essere informato su tutti i nuovi video che verranno caricati guarda altri video ce ne sono di vari generi i video di questa giornata continuano ciao alla prossima